Un saluto a tutti gli amici di GameSource e ben ritrovati a questo nuovo video. Allora, dopo aver unboxato Xbox Series X è il turno di... PlayStation 5, versione standard da 499€ e vi ricordiamo dall'altro che uscirà il 19 novembre e sarà disponibile anche una versione all digital a 399€. Bene, è arrivato il momento di scoprire cosa c'è a Nintendo del pacco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, ripiloghiamo quanto abbiamo visto finora. All'interno del pacco di PlayStation 5 troveremo chiaramente la console, il nuovissimo DualSense che vi spiegheremo in un video a parte e troverete anche un approfondimento sul sito. La basetta per tenere la console sia in orizzontale che in verticale, il cavo di alimentazione del DualSense, il cavo doppio pin di alimentazione della console e infine abbiamo il cavo HDMI 2.1 per tutte le televisioni che supportano i 4K a 320Hz. Per quanto riguarda le porte invece? Allora, come potete vedere abbiamo sul fronte una USB 3.2 e una USB di tipo C, vano disco, sul retro abbiamo le due USB 3.2 sempre, la porta per il cavo Ethernet e per l'HDMI e infine la fessura per il cavo di alimentazione. Quindi questo è tutto per quanto riguarda l'unboxing di PlayStation 5, vi rimandiamo alle pagine del nostro sito perché prossimamente arriverà chiaramente la recensione della console, la recensione dei primi titoli e una serie di vari approfondimenti. Detto questo, benvenuti nella nuova generazione di PlayStation. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.